Nuova caserma dei Vigili del Fuoco, una struttura strettamente necessaria che però langue da diverso tempo per tutti i problemi che sono sorti con l'aumento dei prezzi post-Covid. Però in questo momento siamo a un punto buono. Assessore Ilari, che cosa è accaduto perché ci sia un'accelerata a questo progetto? Allora, la Giunta ha approvato lo schema di convenzione che verrà firmato fra il Comune di Fano e il Ministero dell'Interno, che chiude un po' tutta la partita amministrativa che era rimasta aperta durante questi anni, come indicato correttamente, dovuto all'aumento dei prezzi. Quindi non era stato possibile proseguire la realizzazione dell'opera, visto che il Covid purtroppo ha innalzato i prezzi di oltre il 40%, quindi c'era stato questo blocco ai lavori che ha imputato sia una parte tecnica che una parte amministrativa. Grazie al lavoro dell'amministrazione comunale di concerto con i Vigi del Fuoco, sia dal punto di vista ministeriale ma anche locale, che quindi vanno ringraziati, siamo riusciti a chiudere questo pacchetto, siglare, deliberare l'accordo fra il Comune e il Ministero e quindi noi entro l'anno avremo finalmente la gara redatta e il nome dell'azienda che realizza i lavori. Nei primissimi mesi del prossimo anno ci possiamo sbilanciare, dando anche febbraio come limite che ci siamo dati, potremmo finalmente consegnare i lavori e iniziare finalmente la realizzazione di questa caserma che davvero da troppi anni che Fano sta attendendo. Nel frattempo avete fatto un sopralluogo all'attuale caserma e vi siete resi conto delle necessità delle squadre di soccorso? Sì assolutamente, l'attuale struttura non è idonea alla caserma della terza città delle Marche, i nostri vigili stanno facendo veramente un lavoro incredibile in condizioni che non sono assolutamente idonee, per questo va accelerato il più possibile l'iter di realizzazione della nuova caserma, così stiamo facendo.